Il Comune di Francofonte è inserito nell'elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale dei Comuni che non hanno utilizzato i fondi previsti per il bilancio partecipato. Ad oggi però nessuna conferma né smentita da parte dei rappresentanti istituzionali. Mi informerò, afferma il Sindaco di Francofonte Daniele Lentini, ed eventualmente verificherò la possibilità di recuperare le somme. Grazie a una legge regionale, infatti, i Comuni siciliani ogni anno hanno l'obbligo di spendere il 2% delle somme di parte corrente loro trasferite dalla Regione Sicilia in forme di democrazia partecipata. Per questo gli enti locali sono tenuti ad adottare strumenti che coinvolgano la cittadinanza nelle scelte e al fine di utilizzare queste somme per le azioni di interesse comune. Il Consiglio Comunale di Francofonte, con delibera numero 29 dell'agosto 2017, ha adottato il regolamento comunale per il bilancio partecipato e nel dicembre del 2017 ha pubblicato anche l'avviso pubblico per invitare la cittadinanza a presentare proposte di utilizzo delle somme sulle seguenti sette aree tematiche ambienti ed ecologia, decoro urbano e viabilità, politiche scolastiche e sport, politiche sociali giovanili, sviluppo economico e attività produttive, attività culturali e turismo, innovazione e comunicazione. Il tetto di spesa da destinare alla procedura partecipata nel dicembre 2017 era di 25.000 euro. Gran parte delle 178 proposte presentate hanno chiesto l'installazione di un sistema di videosorveglianza e la realizzazione di un marciapiede ed uno spartitraffico nei pressi del polivalente scolastico. Ad Augusta, nell'ambito dell'evento Alberi per il futuro, domenica sono state messe a demora in diverse zone della città 400 piantine che diventeranno alberi. L'amministrazione comunale, con il contributo del senatore Pino Pisani e del deputato Paolo Ficara, ha aderito all'iniziativa pensata a livello nazionale. Una ditta di giardinaggio e un vivaio hanno svolto il lavoro di preparazione delle aree con l'ausilio della squadra lavori del comune di Augusta. A Lentini sono in tanti a domandarsi che fine ha fatto il finanziamento di 800.000 euro per la riqualificazione dello stabile dell'ex distretto sanitario di Piazza Aldomoro. A quanto pare non c'è stata occasione di incontri con i dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale di spingere per l'utilizzazione del finanziamento. Mai una notizia certa, perché tutti pensavano forse ad una diversa utilizzazione dei fondi. Tra il pensare e le mancate risposte, alla fine ci è pensato l'assessorato regionale alla sanità, che si è ripreso il finanziamento per mancata utilizzazione. Se le cose stanno così, diversi ne dovranno rispondere, mentre nello stesso tempo si deve fare in modo di intervenire presso l'assessorato regionale per il recupero delle somme per la ristrutturazione dello stabile e creare delle giornate di lavoro in un momento così nero per la città. Con nota del 5 novembre scorso, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale della provincia di Seracusa ha interdetto al transito totale della ex strada ferrada Seracusa-Racusa-Vizzini dalla parte del comune di Sortino con decorenza immediata e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza in merito alla gestione della Valle dell'Anapo e di Pantalica. Da anni c'è chi denuncia la cattiva gestione di questo stupendo territorio con atti e mozioni approvati dall'Unione dei Comuni. Durante questi anni, nel silenzio più assoluto però, ci sono stati solo un'infinità di divieti imposte dalla forestale e la diminuzione o la quasi assenza totale ormai di turisti che vengono a visitare questi luoghi. Visto la grande volontà dei sindaci della comunità montana di lottare per un ospedale della città di Seracusa se costruirlo alla pezzuta oppure alle porte di Palazzolo, sostiene Nello Bongiovanni, leader della lista civica, Sortino al centro. Mi auguro invece che da subito si faccia una vera battaglia per una diversa gestione della riserva di Pantalica e della Valle dell'Anapo. Inoltre invitiamo, conclude Nello Bongiovanni, tutti gli organi competenti ad intervenire subito sul tratto di strada soprecitato, considerando anche il fatto che in questo momento ci sono alle dipendenze della forestale circa 250 operai professionisti e specializzati nel settore che possono, a mio avviso, in 20 giorni ripristinare tutto il tratto interrotto. I processi di invecchiamento. È stato questo l'argomento della prima conferenza dell'Aspi in sinergia con il comune di Priolo e Unitre. Per l'anno accademico è stata indetta anche una serie di interessanti seminari concernenti alla sfera medica, secondo la volontà dell'amministrazione del sindaco Pippo Gianni nell'ottica di una prevenzione sempre più allargata a tutte le fasce della popolazione. Si tratta di un progetto di cui è ente organizzatore l'Aspi di Siracusa. I seminari si terranno uno ogni mese nella biblioteca comunale di Priolo e sono patrocinati dalle comuni e organizzati dall'Associazione Unitre che tiene in carico e valorizza l'età matura della vita attraverso un'azione culturale e di educativa a 360 gradi. Parliamo dell'Università della Terza Età, di cui è Presidente Maria Luisa Vanacore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.